E' arrivato il giorno del derby con Ligia Virtus, domani alle 15 l'ha rifatto manto erboso del Vincenzo Palesti ospiterà la gara con la capolista del girone. Una partita che promette spettacolo, si incontreranno due squadre che stanno attraversando uno straordinario periodo di forma e in classifica sono divise soltanto da quattro punti. Domani ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Il bomber che non ti aspetti, l'Ucraino Kosovan, già tre gol in cinque partite. Una grande partita, arriva possiamo dire la capolista, però comunque siamo solamente alla stessa giornata che arriva e l'entusiasmo è tantissimo. L'obiettivo è la vittoria e domenica speriamo ci sia una bolgia da attenderci. Kosovan è contentissimo del gruppo in cui si trova una vera e propria famiglia. Si è dimostrato in campo, comunque nelle ultime quattro partite siamo andati a non perdere mai, a dimostrare sempre di essere una buona squadra, compatta, forte, con tanta fame. Poi i gol mi hanno aiutato tanto e sicuramente i compagni più di tutto, quello sicuro. Il gol più bello è quello che deve arrivare. Esatto, si spera domenica un bel gol sotto la curva, non basterebbe nessuno. Facendo un passo indietro, andando domenica scorsa, ma quel gol che hai realizzato direttamente sul calcio di punizione, ma ci credevi che la palla era entrata? È stata una bella... mi sono svegliato come per dire, cavolo, ma cosa è successo? Mi è andato giusto una punizione così, era tanto che attendevo, durante la settimana si prova sempre, però non pensavo che potesse entrare così forte. Soprattutto quando ho preso l'attraverso non ci credevo, però alla fine è entrata, è stata un bel gol, una bella soddisfazione. Un gelo umile ma che mira ad obiettivi importanti. Sinceramente io rimango con i piedi per terra, sono qui da poco e noi siamo una squadra umile che ha fame e ha voglia di vincere. Noi pensiamo a vincere ogni partita sicuramente e questo è l'obiettivo, di dare il massimo ogni domenica, ottenere il massimo da noi stessi, da quello che ci circonda, portare entusiasmo, portare tanta voglia in questa città e poi si aspetta ogni domenica perché la perseveranza è la cosa più importante, perciò si fa passo dopo passo, non si può pensare in grande sicuramente. A partire da domani. A partire da domani che è una cosa davvero, non ve lo esprimo perché è una carica veramente enorme per questa grande partita.